E' stato ultimato il ponte sul torrente Piomba, ora manca la berretella di collegamento con il vicino ponte sul Saline, i cui lavori stanno proseguendo. Due arterie importanti per snellire il traffico lungo la statale 16 tra Monte Silvano, Silvia e città Sant'Angelo, ma spiega il sindaco Florindi di quest'ultima città. Allora, innanzitutto quella strada, diciamo che hai chiamato tu bretella di collegamento tra i due ponti, era una strada di piano che doveva essere realizzato dai compartisti, quindi a carico dei privati. Siccome laggiù il piano particolarizzato non è mai partito, allora noi ci siamo preoccupati di coprire completamente l'intera somma necessaria per la realizzazione della bretella. Quindi è stato già nominato il progettista, la copertura finanziaria c'è completamente, non solo per la strada, ma anche per un parcheggio di interscambio sotto la ferrovia. E l'unico problema che abbiamo è la non disponibilità dei terreni perché abbiamo i terreni tutti privati. Quindi già ho fatto un primo incontro con i proprietari e devo essere sincero non è andata molto bene. Io spero tanto che i proprietari ci diano una mano con la concessione bonaria dei terreni per far sì che la progettazione possa da subito partire. E inoltre il mio auspicio è quello di poter completare il progetto in una fase finale prima della fine della mia legislatura. Altrimenti si partirà con gli espropri? Sì, altrimenti si parte con gli espropri, si allungano un po' più i tempi, anche se oggi ci sono delle normative che hanno snellito più di tanto la procedura. Però sarebbe meglio che i cittadini ci dessero una mano. Anche per snellire il traffico veicolare? Sì, anche questo è importante perché i due ponti, sia costruendo sul Saline sia quello finito sul Piomba, sono tutti due ponti carrabili. Grazie. Grazie. Grazie.